Dove sei Michela? Dove sei? Non ti vedo. Ah, eccoti qua. Questa è la mia nuova moda, l'infardito rosa, si vedono? Sì. Numero 38, io ho il 47 e ho finito. E tu la mamma rosa che mi dona moltissimo e occhiali da donna. Come sto? Buono. Sto bene? Sì. Grazie. No, no, non ti prendo. Vai, esprimi le tue opinioni su questa giornata di merda. Beh, se la metti già così, dai un brio a questo vlog. No, no, stavo prendendo. Eh, dai. Allora, eh... Esprimiti. Neuroni. No, dai, non dire così, dai, concentrati, dai, ce la puoi fare. Peter Pan, dai, parti, parti. Vloga lui. Ce la puoi fare. No, lui ha detto di no. Dai, dai. No, non mi dico. No, allora, la mia giornata bene, ma la busta di cimice che c'è qua è impressionante. Tra l'altro c'è un ragno che si sta mangiando la cimice sulla mia sedia, guarda. Passa. Insomma, l'argomento è stato ancora. Guarda. Si vede c'è un ragno che si sta mangiando la cimice. Abbiamo 26 anni per parlare del ragno che si mangia la cimice. Adesso la mia vita parla per cagare. Guarda, guarda. Eh, ma non riesco a prendere il ragno. L'avvento di camera non si spegnerà mai. Pre. Ha preso. Mi dica, mi dica. Dai, dai, dai. Facciamo un discorso serio, dai. Vai. Sono lungo come Rocco Siffredi. Ecco. Sapevo che partiva sedissimo. Amici, ieri mi sono dimicato di fare la buonanotte. È tutta colpa di una persona che c'è qua in parte che non vuole rientrare perché ha la faccia brutta al mattino. Invece ho la faccia bella sempre, anche quando mi sveglio. Sono le undici e mezza e ci siamo dormiti da mezz'ora. E quindi invece di buonanotte direi di fare buongiorno. Di buongiorno? Buongiorno. E buongiorno.